Signori, buonasera, Luca di approcciola.it, riproviamo a ricollegarci, non so cosa è successo, sono andato live ed è caduta la connessione, non so cosa sia successo, spero che non succeda ancora, spero che non ci sia, tutte le volte ce n'è sempre una diversa, d'altra volta i commenti, ancora prima le notifiche, Gabriele si è ricollegato, non so che cosa succede, signori, si è scollegato a caso, speriamo non ci succeda, bene, Gabriele scrivi qualche commento per vedere se, ok, sì ci sono i commenti anche, va bene, speriamo che non cada in nuovo la connessione, tutte le volte ce n'è sempre una diversa, allora per chi guarda indifferita dalla pagina Facebook o dal canale YouTube per guardare queste dirette in diretta e fondamentalmente il beneficio di guardare questi video in diretta è di poter fare le domande, bisogna accedere al gruppo Facebook, quindi questi video vengono fatti nel gruppo Facebook segreto di cui trovi il link in descrizione, quindi questo è per chi guarda indifferita dalla pagina Facebook o dal canale YouTube, per chi guarda adesso live dal gruppo Facebook o anche per chi guarda indifferita per fare le domande sapete come fare, le potete mandare prima in anonimato, potete scriverle durante la live, nei commenti, anche se ce ne sono veramente tante 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 oggi domande, infatti non so se le facciamo tutte perché secondo me sono tipo una ventina, non le ho contate però sono veramente parecchie le domande, quindi adesso la tua è la prima Gabriele, quindi rispondiamo subito alla tua domanda, quindi facciamo un attimo le solite premesse, quindi argomento di oggi domande risposte, per chi avesse domande sui corsi potete scrivere all'assistenza clienti via WhatsApp al numero 351-646-6774, per chi guarda da YouTube lo trovate anche nella descrizione del video, se no comunque c'è il sito, andate sul sito www.approcciala.it, ci sono tutte le informazioni sui corsi che attualmente sono sold out fino a metà febbraio, quindi giusto un aggiornamento che è divertente, quando ho visto questa cosa qua ho detto no, assurdo, praticamente siccome io spesso dico che le altre scuole di seduzione non producono risultati, i risultati ricordiamolo non sono il numero, il bacio, il risultato è andare a letto con la ragazza, tutti gli altri risultati sono risultati a metà, ciao Federico, siccome io è da un po' che vado avanti a dire questa cosa qua, una delle famose scuole di seduzione in Italia ha messo i risultati sul sito, che io dicevo andate a controllare sui loro siti, vedete se non ci sono risultati, una delle scuole di seduzione famose in Italia evidentemente guarda i miei video, quindi saluto se mi guardano, fa abbastanza ridere questa cosa, e hanno dimostrato i loro risultati, c'è una scuola che ha messo 12 testimonianze, lo contate, 12 testimonianze di risultati di studenti che sono andati a letto con la ragazza, questa è la scuola che non fa corsi al vivo attualmente, vende prodotti digitali eccetera e praticamente hanno messo 12 testimonianze di screenshot di studenti che sono riusciti a concludere, quindi perché io siccome ho fatto, per dirlo, prima chiaramente vado a verificare che sia veramente così, quindi a metà ottobre ho fatto un giro dei vari siti delle scuole di seduzione, lo faccio una volta al mese per continuare a capire se posso continuare a dire questa cosa qua, che altri hanno risultati, quindi evidentemente in risposta a questa cosa mia qualcuno ha dimostrato i risultati, quindi ok, buono, è una scuola che in realtà è in piedi da 10 anni, quindi 12 testimonianze in 10 anni è un po' pochino però già comunque va bene, quindi... e questo però dimostra ancora di più che le altre scuole che non dimostrano i risultati, è ancora più vero quello che dico io, è proprio vero che gli altri non sanno far ottenere risultati, i risultati non sono il numero, non è il bacio, non è l'appuntamento, quelli sono risultati a metà, il numero non è per niente un risultato, il risultato è concludere con la ragazza, quando riesci ad andare a letto con la ragazza, tutto quello che c'è prima è un risultato a metà, quindi... divertente questa cosa, quando l'ho vista sul loro sito ho detto, porca troia, guardano i miei video assurdo allora, Gabriele dice, minchia, là ti fanno... sì, vabbè... no, no, non c'è da spaventarsi allora, iniziamo con le domande Gabriele chiede ciao Luca, oggi ti voglio parlare di un mio problema, riascoltando delle registrazioni di miei approcci fatti subito dopo il corso, mi accorgo che ero abbastanza sciolto nella conversazione e nell'interazione, con gli approcci che faccio ora sembra che questa cosa io l'abbia praticamente persa, infatti mi vengono approcci di merda, con poca energia troppo logici, eccetera, tutto questo anche perché faccio ancora pochi approcci a settimana dopo il corso ero molto energico e con molta vitalità, in generale nella mia vita, ora no, come posso ritornare a essere almeno come prima? allora Gabriele, innanzitutto ti sei risposto parzialmente da solo nella domanda devi uscire di più, devi uscire, prova a fare questo, prova a uscire tutti i giorni per una settimana e vedi che impatto ha sul tuo stato emotivo una volta, neanche una volta, posso anche riportare un esempio più recente io recentemente ho fatto questo esperimento, lo stavo filmando poi ho interrotto le riprese per vari motivi, ho provato a uscire tutti i giorni per, volevo farlo per un mese poi l'ho fatto per tre settimane, comunque io quando sono uscito il primo anno tutti i giorni, per 365 giorni, l'ho fatto quindi non sto parlando per sentito dire comunque ho riprovato di recente a uscire tutti i giorni per tre settimane c'è un, diciamo, un momentum diverso, cioè ti viene molto più facile approcciare ok? quindi il mio consiglio è prova a uscire tutti i giorni per una settimana e vedi cosa succede al tuo stato emotivo, detto ciò, questa è solo una parte, sicuramente anche l'ottenere dei risultati ti aiuta nel sentirti meglio perché se tu continui a uscire ovviamente non concludi niente, anche magari prendere il numero può comunque, se tu inizi a prendere, non so, prendere dieci numeri e ti stai sentendo con dieci ragazze, questa cosa comunque ti dà più, diciamo, come dire, non so come dire, più serenità nel continuare il percorso rispetto a continuare ad uscire e prendere solo rifiuti, quindi anche dei piccoli risultati, però ti danno, diciamo, più motivazione per andare avanti, quindi vediamo che stai scrivendo, ma vedi che io esco spesso, solo che non riesco a buttare molti approcci, anzi, ancora capita che giro vuoto, te l'ho detto, se andate, allora, questo qua, allora te lo dovevo annunciare domani sera, per chi è scritto all'email dovrebbe averlo già visto, per chi è collegato, andate su, scrivete proprio www.approcciola.it slash report e lì troverete 11, 10 miei report, tra cui c'è anche il report dei 365 giorni, quindi poi domani alle 21 avevo già schedulato che avrei pubblicato il link, però chi vuole andare a vederlo già adesso o dopo, scrivete www.approcciola.it slash report, ci sono tutti i report che li ho ricaricati lì, quindi andatevelo a guardare lì, Gabriele, se vai a vedere quel report dei 365 giorni, vedi che ce l'ho messo di tempo prima di ingranare, prima di iniziare a, diciamo, uscire senza fare i giri a vuoto, all'inizio i giri a vuoto erano all'ordine del giorno, facevo magari, giravo a vuoto due ore, poi facevo un approccio e andavo a casa, e andava così avanti tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. I giri a vuoto sono comunque funzionali perché impari a gestire la frustrazione, impari a gestire, diciamo, i alti e bassi dello stato emotivo, impari a stare da solo, quindi diventi più solido internamente, poi dopo a un certo punto c'è un click che... volevo fare un video su questa cosa qua perché è un argomento molto interessante, capire poi tutta la procedura da zero fino a 100, chiamiamolo così. Un'altra cosa che puoi fare per, diciamo, ripristinare quello stato emotivo, diciamo, energico, però devi capire già che non ce l'avrai questo stato emotivo energico costantemente e, diciamo, tutte le volte che esci. Poi magari dopo più avanti, quando continui a uscire, quando sviluppi più solidità a livello interiore, sì, se esci comunque tutti i giorni, in realtà anche più avanti, in realtà più avanti sconsiglio, cioè quando si è già a livelli avanzati io sconsiglio di uscire tutti i giorni. Poi comunque è un discorso che in realtà non interessa adesso la maggior parte delle persone collegate perché tanto non siete a livelli avanzati. Quindi la cosa che puoi fare attualmente per, diciamo, riprendere la vitalità è andare a lavorare sulle altre aree della tua vita. Ti ricordi quel video di preparazione al corso che, se non sbaglio, era il terzo video di preparazione al corso dove vengono elencate tutte le altre aree di vita, di cui ero già parlato in diversi altri video, lavora sulle altre aree di vita. Fai un check, proprio adesso te ne allenco alcune, fai un check di tutte le varie aree di vita e datti un voto da 1 a 10 riguardo a quanto sei soddisfatto di quell'area di vita. Le aree che vedi che sono, sei soddisfatto, diciamo, la sufficienza è il 6, mettiamolo così, le aree che vedi che come voto gli dai meno di 6, quindi dal 5 in giù, stabilisci un'azione da fare entro, non so, una settimana e fallo. Questo serve per riportare un po' di, diciamo, di gioia, di vivacità nella tua vita, perché se continui a uscire, 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 non hai risultati, continui a fare la tua vita, vai a lavoro, vai a scuola, continui a fare la tua giornata, entri, diciamo, in una spirale di, diciamo, continui a fare le stesse cose, non c'è novità, non ci sono risultati e questa cosa chiaramente va a peggiorare. Quindi per riportare un po' di brio, di vivacità, fai questa cosa qui, quindi non so, appunto per l'autostima, per esempio, che è una delle 14 voci che ci sono spiegate in quel video, per esempio per l'autostima, come ti ho detto, decidi di uscire per 7 giorni di fila ed esci per 7 giorni. Se rispetti questa frequenza che hai deciso, vedrai che l'autostima cresce, perché hai deciso una cosa e l'hai fatta, per, non so, per le novità, non so, vai su Groupon e ti prendi, non so, vai a fare un massaggio, vai a fare il giro in Mongolfiera, vai a farti il giro sui go-kart, a farti il giro all'isola, alle isole, come si chiamano le isole lì della Sicilia? Le... come cazzo si chiamano? Boh, non mi ricordo. Boh, non mi ricordo. Le isole lì, quella lì, Vulcano e le altre. Comunque, vatti a fare un giorno lì alle isole, non lo so, porta novità nella tua vita. Per la parte del divertimento, non so, esci con i tuoi amici, andate a fare i cazzari in giro, per, non so, salute, forma fisica, che appunto sto elencando tutte le varie voci della vita, non lo so, vai a farti una corsa, magari se non fai sport vai a farti una corsa, vai, porta vivacità nella tua vita, tramite tutte quelle 14 aree di vita, scegli un'azione da fare per ognuna delle aree, e in modo che riporti la vivacità nella tua vita, di conseguenza riportare quella vivacità ti fa stare meglio, questo stare meglio poi si riflette quando interagisci con una ragazza, quindi questo qua, il discorso, vediamo se qualcuno scrive qualcosa, cazzo, non gli ho letto i commenti, vorrei fare più approcci ma non riesco, ah, le isole e olie, ok, le isole e olie, vorresti fare più approcci ma non riesci, non so che dirti, continua, io quello che facevo io era continuavo, continuavo, finché a un certo punto ci riesci, però devi passare attraverso questi stati di depressione, frustrazione, sei in giro da solo e non riesci a approcciare, fa freddo, devi passarci attraverso, passandoci attraverso diventi più stabile internamente, di conseguenza poi dopo riesci a uscire da solo tranquillamente e fare il giusto quantitativo di approcci che serve per ottenere risultati, io mi ricordo che forse, non mi ricordo esattamente quando è stata la prima volta che diciamo ho fatto giornata da solo a fare game e che mi sono anche divertito, non me lo ricordo, però mi ricordo che era dopo un bel po' di mesi, mi ricordo che la prima volta che ho fatto, non mi ricordo, forse era l'instant date con il bacio, non mi ricordo, non so, però ci ho messo un bel po' di mesi per imparare a uscire da solo, di divertirmi da solo, essere diciamo indipendente dal fatto che ci fossero dei wingman o da solo, oppure giornate in cui riuscivo ad approcciare tanto anche se magari ero da solo, ce ne vuole di tempo, quindi vai avanti, non sai quando c'è il momento in cui fai click e ti sblocchi, non lo sai quando è quel momento e molte persone si fermano prima di arrivare a quel momento, bisogna semplicemente andare avanti, non mi ricordo io quando è stato, forse dieci mesi ci sono voluti, non ti dico cazzate perché non me lo ricordo esattamente, questo anno non me lo ricordo nello specifico, quanto c'è voluto per imparare a uscire da solo, che diciamo che non ci sono differenze fra il fatto che esco da solo o che esco con altri, non mi ricordo quanto tempo ci ho messo, però vai avanti. Andrea chiede, Andrea B, quindi adesso sto rispondendo un attimo alle domande di chi ha fatto i corsi, Andrea B, che non so se è collegato, dove sei Andrea B, sei con la tua amante. Allora, ah sì, ok, Andrea che ha scritto oggi un commento che scrive, l'esperimento dell'auricolare non potrebbe avere qualche utilità per far capire allo studente che alcuni limiti mentali che si è autoimposto possono essere tranquillamente superati? Mi spiego, in un dato momento lo studente ritiene che è troppo azzardato dire o fare una certa cosa, se tu gli dici farla e lui la fa, si rende conto che il suo era un pensiero sbagliato e quindi la volta dopo magari è meno bloccato. Allora, si può riprovare la cosa di mettere l'auricolare allo studente? Si può riprovare però io nella mia esperienza ho visto che ci sono più vantaggi che vantaggi, perché comunque finché non ci sbatti la testa solo sull'errore non lo capisci. Ci sono stati studenti, per esempio mi ricordo un ragazzo di presente un anno fa, che ha fatto due stand date, una poteva anche portarsela a casa, ha fatto due stand date, ma io ho detto tutto io su quello che doveva fare e fondamentalmente ha fatto quei due stand date, sono andati molto bene, però poi dopo era sempre comunque lì, anche se gli ho fatto vedere, perché lui appunto non aveva mai fatto un stand date, figuriamoci portarsi una ragazza a casa che poteva portarsela a casa, che in realtà poteva andare a casa di lei, però non l'ha fatto lì per vari limiti mentali appunto, nonostante quello comunque ho visto che finché non ci sbatti la testa da solo non cambia. Mi ricordo durante un corso di sette giorni che c'è stato qualche mese fa, che lo studente ha fatto sei appuntamenti in sette giorni, sei primi appuntamenti in sette giorni e cazzo ci sono voluti quattro, forse anche cinque appuntamenti fatti di merda in cui sbagliava sempre la stessa cosa, nonostante glielo dicevo, gli mandavo i messaggi, stai sbagliando, correggi porca puttana e tutte le volte doveva sbatterci la testa prima di capirlo, ci ha dovuto sbattere la testa sullo stesso errore per quattro, cinque appuntamenti prima di farne uno giusto, quindi questo qua è quello che ho visto io, poi comunque ci sono gli sms che io mando durante gli appuntamenti, durante gli stand date, durante i vari momenti del corso, quando sei con una ragazza e quindi lo puoi vedere anche lì, un sacco di volte capita che magari ti mando l'sms e dico fai il bacio, lo vedi subito e lo provi, in caso è il momento, quindi ho visto che ci sono realtà più svantaggi che vantaggi, nell'avere proprio l'auricolare che ti suggerisco in ogni minimo istante. Che gli dici alla ragazza per andare da lei? Gabriele hai l'audio corso, porca troia! E in realtà è forse vero, non c'è comunque... I principi sono gli stessi del modulo del pool, i principi sono gli stessi, ciao Carlo, i principi sono gli stessi, adesso sto girando il video corso che uscirà penso a marzo, mettetevi via i soldi, ve lo dico già adesso, e ho messo proprio, ho fatto anche la lezione su come andare a casa di lei, perché appunto mi rendo conto che nell'audio corso è spiegato solo il come portarla a casa tua, però fondamentalmente i principi sono gli stessi, nell'invito lo fai personalizzato per andare a casa di lei, quindi devi accertarti che le logistiche siano in favore, che lei viva da sola, che non ci siano coinquilini, oppure se ha coinquilini devi comunque accertarti che magari si possa andare comunque a casa sua, che magari ha una camera libera, magari gli orari lo permettono, sono tante cose, altrimenti non avrei girato la lezione lì per il video corso, quindi devi accertarti delle logistiche, quando poi insemini per gli scenari successivi devi seminare chiaramente correlati all'andare a casa di lei, quindi non so, non sto qua a dare troppi dettagli, però comunque sono cose che appunto poi insegnerò nel video corso, quindi dovete pagare queste cose qua. Comunque Gabriele, sono gli stessi principi che hai lì nell'audio corso, quindi semplicemente il seminare per gli scenari successivi lo fai correlato a casa di lei e quando le fai l'invito lo fai appunto legato a casa di lei, ok? Quindi non sto qua a spiegarti troppo perché comunque qua nella live c'è anche gente che non paga, non ha pagato, quindi poi magari metto l'audio, poi magari aggiungo una lezione all'audio corso, però come ti ho detto i principi sono gli stessi, sono gli stessi che ci sono nell'audio corso, semplicemente devi traslarne alcuni personalizzati per andare a casa di lei. Poi passiamo alle domande dei vari anonimi. Allora, ti è mai capitato che una ragazza ti dice che è lesbica? Se sì, che le dici? Niente, te ne vai. Capire se ti sta mentendo o no, se magari te lo dice per testarti oppure se è veramente così, dipende. Se te lo dice per testarti, continua, passa il testo. Se invece capisci che è vero, non serve a molto rimanere lì, quindi devi capire se è vero oppure se ti sta testando. Se è vero vai via, se ti sta testando continua. Poi, allora, Anonimo chiede, ciao Luca, ma oltre a essere bravi negli approcci e saper coinvolgere, dobbiamo essere bravi a letto per avere modo di rivedere la ragazza? Molti ammettono che questa può essere una delle cose determinanti per un secondo incontro. Sì, di solito sì, ci sono però delle eccezioni nella mia esperienza. Mi ricordo di due ragazze che a letto, diciamo, avevo fatto schifo, che sapevo, erano alcune delle prime ragazze con cui ero andato a letto e, fra l'altro, una era proprio la primissima, che però, nonostante fosse stata la primissima, poi dopo siamo stati trombambici per un anno. Quindi, di solito sì, di solito se fai schifo a letto, poi, difficile che lei continui a rivederti. Magari se sei bravissimo a livello di personalità, a livello di, diciamo, di carisma, eccetera, magari sì, la rivedi. Però comunque è una componente molto importante, quindi sì. De l'altro ci sono delle eccezioni, però. Però di solito, sì, è una componente molto importante per continuare a rivederla. Anonimo chiede, come facciamo a metabolizzare il rifiuto se agli inizi può arrivare anche da ragazze non bellissime fisicamente? La vedo come se sparassero sulla croce rossa. Allora, innanzitutto, perché stai andando dalle ragazze non bellissime? Ora, se stai andando dalle ragazze non bellissime, che diciamo da 1 a 10 le dai un 6, quindi vuol dire che è accettabile, ok. Se stai andando dalle cesse, non farlo, non serve, non ha senso, perché magari semplicemente non sono in target le ragazze non bellissime, ok? Cioè, se io andassi da ragazze non belle, quindi magari da ragazze che esteticamente da 1 a 10 magari sono dei 5, prenderei praticamente solo rifiuti o forse, non so, molti più rifiuti rispetto ad andare da ragazze molto belle esteticamente, che magari da 1 a 10 le resti un 8 o un 9. Perché? Perché quelle brutte non sono in target, ok? Quindi stai andando dal target giusto di ragazza, oppure stai andando da quelle non bellissime perché ti sei autoconvinto, ti hanno convinto che, ma sì, fai pratica. Io quello che consiglio anche durante i corsi, io non faccio andare da ragazze brutte. Poi, se da 1 a 10 comunque la ragazza è un 6, quindi 6 vuol dire che comunque è accettabile, si va, ma non si va da ragazze brutte, perché semplicemente non ha senso, non sono in target, ok? Quindi, capisci, quindi, dovresti capire come definire il tuo target di ragazza, però fondamentalmente c'è un video, fra l'altro, uno dei video in preparazione al corso, forse c'è anche un video pubblico? Non mi ricordo se c'è un video pubblico. Forse sì. Non ne sono certo, però se non sbaglio nel video c'è un video su YouTube che si chiama tipo 4 passi per trovare una fidanzata e se non sbaglio lì spiego anche come definire le caratteristiche della tua ragazza ideale. Non so se è quello lì il video, però se non sbaglio sì. Comunque in ogni caso lo spiego durante i corsi, questa cosa qua. Come facciamo a metabolizzare il rifiuto? Se agli inizi... Come facciamo a metabolizzare il rifiuto? Ti consiglio di riguardare la diretta sulla paura del rifiuto. Quella lì è la diretta numero 19. Penso forse sia stata la diretta più assurda, più incredibile, più di valore che abbia fatto finora, quindi consiglio di riguardarla anche agli altri. È una diretta veramente con molto contenuto, molte cose molto interessanti su appunto la paura del giudizio, sulla paura del rifiuto, quindi molto utile per imparare a metabolizzare il rifiuto, quindi non sto qua a rifarvi a diretta. È durata anche quella, penso, un'ora. Come facciamo a metabolizzare il rifiuto? Per la parte emozionale io ti consiglio un corso di sette giorni, perché in sette giorni comunque sia la possibilità di lavorare appunto sull'emozionalità, quindi sulle varie emozioni negative, fra quali maggiormente la paura, poi paura di varie cose, paura del rifiuto, paura del giudizio, paura di un sacco di cose, si ha modo di lavorare molto molto di più rispetto a un corso di due giorni. Cioè in un corso di sette giorni ne esci totalmente trasformato rispetto magari a un corso di due giorni, ok? Quindi per i corsi di sette giorni attualmente ce ne sono due, in programma ne sono uno a marzo e uno ad aprile, quindi per chi fosse interessato trovate tutte le info sul sito dove c'è la sezione corsi. Altro anonimo chiede, noi uomini medi tendiamo sempre a mettere le ragazze su un piedistallo sbagliando, però quando ti trovi davanti la ragazza bona il cervello va in tilt, come fare per riprendere subito il controllo della situazione? Allora noi uomini medi innanzitutto incamminati per non essere più un uomo medio. Il mio invito proprio anche a livello di vita è dovete essere schifati dalla media, dall'essere nella media, perché in media le persone non ottengono risultati in niente, in media la maggior parte delle persone non c'ha soldi, in media le persone hanno una forma fisica che non gli piace, in media le persone hanno una vita sentimentale che non gli piace, in media le persone non sono felici, in media non funziona, quindi il mio consiglio è di incamminarti per non essere più un uomo medio, una persona media. Poi, come riprendere subito il controllo della situazione? Non puoi, non si può riprendere subito il controllo della situazione. Quella situazione andrà male, molto probabilmente, se è una ragazza molto molto bella, ok, abituati a interagire di più con ragazze molto belle, frequenta persone che escono con ragazze molto belle, stai in ambienti dove ci sono ragazze molto belle, per esempio conosco alcuni ragazzi che sono riusciti a entrare, per esempio qua a Milano nel giro dei promoter, le modelle, quindi magari fanno le serate con le modelle, ti abitui a stare a contatto con ragazze molto belle, ti abitui a stare a contatto con ragazzi che interagiscono con ragazze molto belle, di conseguenza ti abitui, poco per volta la loro bellezza non ti influenza più, ok, quindi sul momento se non sei abituato è impossibile che riprendi il controllo della situazione, poi appunto con le ragazze molto belle se vedono che sei insicuro, che hai una minima esitazione, di solito sei tagliato fuori subito, quindi sul momento è abbastanza improbabile che riprendi il controllo della situazione, però magari una cosa che puoi fare è immaginartela sul cesso, questa è una cosa che potresti fare per diciamo normalizzarla un po' di più nella tua testa. Allora, andiamo avanti, Anonimo chiede, mi ricordo di una frase, solo quando ho toccato il fondo economicamente e fisicamente non ho mollato ed è lì che ho capito il mio valore, quindi anche nella seduzione dobbiamo arrivare a umiliarci di fronte a cento, mille rifiuti per scoprire il nostro potenziale, serve anche una gestione interna dello stress, sì, il game se fatto bene ti obbliga diciamo a migliorare la gestione delle tue emozioni, tra le quali anche lo stress, tutte le varie emozioni diciamo che possiamo vedere in maniera negativa, la paura, la depressione, l'ansia, la rabbia, non so, tutte le varie emozioni negative, quindi il game se fatto bene ti forza a migliorare la tua gestione interna delle emozioni, non è necessario umiliarsi, quindi non bisogna fare niente di assurdo, niente di al massimo magari approcci un gruppo di quattro ragazze, cinque ragazze, molte volte in realtà ti sorprenderai perché vedrai che vanno bene, questi approcci molto diciamo nei quali serve molto coraggio, ti sorprenderai che in realtà molte volte gli approcci più difficili sono quelli che diciamo vanno meglio, poi molte volte anche se vanno bene magari tu vai in panico perché non ti aspettavi e te ne vai via, però noterai molte volte che in realtà gli approcci molto ad alta intensità, quindi magari approcciare un gruppo di sei ragazze oppure magari approcciare non so per esempio con tanta gente intorno che ti guarda, molte volte in realtà sono gli approcci che vanno meglio per vari motivi che non sto a spiegare adesso, però fondamentalmente non devi fare niente di assurdo, non è che devi umiliarti, non è che devi andare non lo so in mezzo al semaforo e urlare dall'altra parte della strada, non serve quella cosa lì, oppure ci sono alcuni esercizi che insegnano alcune persone in America per appunto far uscire molta paura che però appunto sono praticamente quasi al limite dell'umili, cioè non al limite, sono praticamente umilianti, magari tipo di sedersi in mezzo alla strada, sono cose che in realtà hanno un senso per far uscire la paura, però so che manca una componente che in realtà non insegnano, io la insegno durante i corsi, su appunto come far uscire la paura, però sono cose che hanno un senso, sì, però fondamentalmente puoi far uscire la paura anche senza, non c'è necessità di umiliarsi a livelli estremi, semplicemente interagire con ragazzi. Sto leggendo un attimo la domanda, allora mi ricordo una frase, quindi anche nella seduzione dobbiamo arrivare a umiliarci per scoprire il nostro potenziale, quindi no, non ti serve umiliarti per forza, però comunque passare attraverso tanta pratica, tanti rifiuti, chiaramente non solo rifiuti, ricordiamoci che i rifiuti poi a un certo punto bisognerebbe anche avere dei risultati, quindi non solo i rifiuti, però sì, è così che scopri il tuo vero potenziale, in realtà il potenziale di qualsiasi persona è, non so se è illimitato, però potete fare molto di più di quello che pensate, cioè se io dovessi guardarmi, non so, cinque anni fa, cioè guardare magari il me stesso di oggi, vada al me stesso di cinque anni fa e gli dice, oh guarda che tu farai questo, quello, quell'altro fra cinque anni, cioè assurdo, cioè io oggi, le ho contate un po' di tempo fa, sono uscito con quasi un centinaio di ragazze in questi anni e a oggi ho 23 anni, quanti altri 23 anni conoscete che sono usciti con un centinaio di ragazze, ok? E sono stato letto con qualche decina di ragazze, sono uscito con modelle, sono stato in vacanza con ragazze approcciate qua a Milano di giorno, per strada, con cui si sono andato a letto, poi ci sono trovati così bene che siamo andati in vacanza, una ragazza veramente assurda, cioè che io non ho capito cosa fa di lavoro, perché è tipo sempre in vacanza, è sempre tipo negli hotel a cinque stelle, non ho capito che cazzo fa, cioè quando l'ho conosciuta mi aveva detto cosa faceva, però non l'ho mai vista lavorare, quindi ragazze di molto alto livello, ma se l'avessi dovuto vedere anni e anni fa avrei detto no, impossibile, assurdo, quindi il mondo del game, se non molli, se vai avanti, parlo anche a Gabriele, se vai avanti poi ti fa scoprire cose che veramente non ti avessi mai immaginato e lasci indietro tutti gli altri. Prima ero, cioè la live oggi è alle 22, perché prima avevo da fare, ero in un posto e c'era anche una persona, diciamo, della mia vita precedente, che non gli ho detto però cosa faccio di lavoro, perché sarebbe stata un po' imbarazzante la conversazione, perché c'è così tanto distacco da come ero quando mi conosceva lui anni fa, a come sono oggi, che sarebbe stato un po' imbarazzante spiegarglielo, quindi capite che se vi date da fare c'è un'infinità di possibilità, per chi però si dà da fare e non molla. Allora, Anonimo chiede, Allora, io due dirette fa ho rivelato, siccome io ottengo il bilancio di quanti soldi spendo, guadagno, proprio mese per mese, so quanti soldi ho speso per i vari appuntamenti con le ragazze in questi anni e appunto avevo detto che nel 2017 avevo speso pochissimo, rispetto poi al 2018 e nel 2019 ho speso parecchio, parecchi soldi per gli appuntamenti con le ragazze, non perché faccia cene costose, perché sono tanti, nel 2017 li ho tenuti molto bassi, tipo pochissimi, non mi ricordo, cioè non mi ricordo, tipo 10-20 euro in un anno, quindi veramente bassissimo la cifra, nonostante abbia fatto tanti appuntamenti, però l'ho ottenuto, diciamo, la spesa bassa perché fondamentalmente faccio gli appuntamenti ai parchi oppure le portavo in posti dove ti potevi sedere anche senza prendere niente, per chi a Milano sa dove è il Pascucci, Coffi, la San Babila, puoi anche sederti senza prendere niente in realtà però, se il Pascucci guarda questo video, non andate a Pascucci senza prendere niente, comprate le cose del Pascucci oppure il Mercato del Duomo, che adesso fra l'altro il Mercato del Duomo ci hanno fatto una pizzeria, quindi hanno ridimensionato la zona, comunque ti devi un po' ingegnare, se non hai soldi, su dove fare gli appuntamenti, però mettiti il prima possibile nella condizione di avere i soldi per fare gli appuntamenti, perché se non arrivi a fine mese, anche spendere 1,20 euro per il caffè sei sempre lì, che cazzo, spendere i soldi per 10 euro per un drink, magari offrire anche lei il drink al primo appuntamento, magari spendi 20 euro, se arrivi tirato a fine mese sei lì e dici, che cazzo... quindi mettiti prima che possibile nella condizione di avere anche più entrate quindi mi raccomando, chi va al Pascucci a San Bavila, comprate il caffè, non sedetevi senza prendere niente poi il Pascucci mi denuncia allora, Gabriele scrive, state attenti perché ci sono gli asiatici che studiano e fanno bordello allora, come viene da ridere, sta cosa del Pascucci Gabriele basta, non scrivi che mi fai ridere allora, come comportarsi... Anonimo scrive come comportarsi se fai un trasferimento in giornata da una città più piccola ad una più grande e purtroppo la tua macchina non è grande e confortevole dobbiamo sempre tenere in considerazione di pagare per una camera di un motel vicino non ho capito la domanda come comportarsi se fai un trasferimento in giornata da una città più piccola ad una più grande e purtroppo la tua macchina non è grande e confortevole dobbiamo sempre tenere in considerazione di pagare una camera di hotel Allora, Anonimo, intendi che ti sposti a una città per andare a fare game, quindi andare a approcciare? Non ho capito la domanda No, non prendere camere di motel, non lo so, dipende, troppo non ho capito la domanda Troppo generica, spiegata male Quindi se sei collegato a Anonimo e non vuoi essere più Anonimo, scrivi un commento in cui rifai la domanda Allora, l'altro Anonimo chiede Temevo che la serie non venisse rinnovata per una seconda stagione dopo la chiusura del gruppo Parlando di serie tv o film con una ragazza ci può aiutare a capire il tipo di carattere, sì Capire quali film, quali serie tv, cosa guarda lei Può aiutarti a capire che tipo di personalità ha E di conseguenza, ricordiamoci sempre che l'obiettivo è andare a letto con la ragazza Poi, io dico sempre, andare a letto con la ragazza prima possibile Ma quel prima possibile non significa dopo un'ora Può essere anche al terzo appuntamento Però quantomeno tenere a mente che l'obiettivo è quello Trenti la ragazza poi a un certo punto si romperà i coglioni e vi scaricherà Ok? Quindi, lo dico spesso Prima vi mettete a posto internamente sul fatto che non c'è niente di male Nel sesso, nell'andare a letto con la ragazza Prima, diciamo, iniziate ad ottenere risultati Perché se pensate, se vado a letto con la ragazza troppo veloce è una troia A parte che nella mia esperienza non è così Io, tutte le ragazze più, diciamo, incredibili Proprio con le quali mi sono trovato meglio Sono quelle che appunto avevano meno paranoie mentali A livello sessuale Infatti poi siamo andati a letto magari il giorno stesso Magari al primo appuntamento La ragazza con la quale sono andato in vacanza Sono andato a letto con lei il giorno stesso che l'ho conosciuta Da un approccio per strada Ok? Poi se fossimo stati anche nella stessa città a vivere Probabilmente ci saremmo anche fidanzati Ok? Quindi, tornando al discorso di Dessere TV Film Per esempio, i film molto romantici Indica Parlo della mia esperienza Poi non sono cose universali Parlo adesso della mia esperienza Se le piacciono film più romantici Non so, il Titanic Magari una ragazza più da relazione Nel senso che magari ci metti un po' più di tempo Ad andare a letto con lei Se magari è una che, non so Mi ricordo una ragazza con la quale Era uscito un po' di anni fa Che le piaceva un sacco la serie TV Che si chiama Shameless Non so se chi la conosce Vi sconsiglio di guardarla Perché ci può Roba troppo Di gente che si droga Cioè, roba che vi condizionate negativamente Non guardatela Però comunque È una serie TV dove Sono tutti sempre a scopare A drogarsi A spacciare A rubare Quindi non vi consiglio di guardarla Proprio per la vostra mentalità Però c'era questa ragazza Che era molto, diciamo Non so come dire Fan di questa serie TV Infatti Era una che Non aveva Cioè, sono letto al senso con lei Molto velocemente Ok? Quindi, però Non è che ho Non ho così tanta esperienza Da poterti dire Per le varie categorie di film Cosa vogliono dire Poi Abbiamo un anonimo Che si è firmato come Attila, fratello di Dio Che dice In molte ragazze Ti dicono Devi sapermi far ridere Ma quanto dobbiamo calibrare le battute In modo che rimangano Nella comunicazione uomo-donna E non dritto dritto Nella friendzone Allora Alterna la conversazione Quindi semplicemente Delle volte Magari anche se vai troppo oltre Con l'essere divertente Con le battute Semplicemente Alterna la conversazione Fra momenti Molto divertenti In cui magari vai anche Oltre il limite E momenti In cui sei più serio In cui magari Rallenti il ritmo Della conversazione In cui magari Ci sono dei momenti Anche più di silenzio In cui la guardi negli occhi Senza dire niente Con quello sguardo Magari da Non so Non so come dire In cui semplicemente La guardi negli occhi Ok? Quindi alterna A momenti Comunque la calibrazione La impari con la pratica Quindi delle volte Magari esageri E finisci in friendzone E allora capisci Ok Quello è il confine Oppure delle volte Sei troppo magari Non so come dire Troppo Non so come dire Troppo diretto Troppo comunicazione uomo-donna Troppo intento Forte E magari Non so Magari La mette a disagio Quindi O magari ti percepisce Come seduttore Come player Non so Chiamatela come la volete E quindi Entrambi gli estremi Non vanno bene Quindi Però come impari La calibrazione Imparando Sbagliando Quindi delle volte Andando troppo oltre di qua E finisci in friendzone Delle volte andando troppo di qua E le metti La mette a disagio Ti vede come un player Quindi Sbagliando Poi poco per volta Capisci come Diciamo Rimanere in un range In cui L'interazione procede E funziona Sicuramente Una cosa da non fare È non fare il buffone Conosco ragazzi Che appunto Conosco uno In particolare Che fa molto Il buffone Durante l'interazione Però il fare il buffone Serve anche Per mascherare l'intento È una cosa che in realtà Si fa inconsciamente Di solito Chi lo fa Non se ne rende conto Si esagera Con le battute Con il far ridere la ragazza Fare proprio il buffone Lo si fa inconsciamente Per mascherare l'intento Ok Un discorso più Avanzato Poi magari Ne parliamo un'altra volta Però fondamentalmente La risposta Alla domanda Cos'è che era la domanda Come fare A calibrare le battute In modo da rimanere Sul piano uomo-donna E non finire in friendzone Lo impari con l'esperienza Calibrando con l'esperienza Quindi sbagliando E poi Capendo dov'è il confine Poi abbiamo Domanda Di Anonimo Che si è firmato Come Rocco Siffredi Ora Non so se è il vero Rocco Siffredi Però penso di no Quindi Chi è che la Chiede Non mi sento a mio agio Quando faccio contatto fisico Con la ragazza Sicuramente da questo Si capisce che non è il vero Rocco Siffredi Non mi sento a mio agio Quando faccio contatto fisico Con la ragazza O quando devo fare Escalation fisica Per arrivare al bacio Di conseguenza Questo disagio Viene trasmesso anche a lei Creando molto imbarazzo Come posso risolvere? Come puoi risolvere? Facendo un corso Di sette giorni Con me Quindi Perché appunto Come ho spiegato altre volte Il corso di sette giorni Comunque ti dà modo Di lavorare su Una quantità enorme di cose Fra le quali appunto La paura Di far contatto fisico L'escalation fisica La paura appunto Ho già spiegato diverse volte C'è il modo corretto Di lavorare sulla paura E c'è il modo sbagliato Il modo sbagliato È quello che insegnano tutti Ovvero il desensibilizzarsi Il farlo più volte Sì Quella è una parte Del modo che funziona C'è poi anche la componente Emozionale Su come fare A poi rimuovere Le emozioni di paura Le emozioni di disagio Definitivamente Quindi sì Il farlo più volte È una parte Del modo che funziona Ma poi c'è da lavorare Anche correttamente Sull'emozione E questo lo insegno Durante i corsi E poi Una volta che Hai imparato La procedura Che appunto Insegno durante i corsi Semplicemente ripetilo Più volte Quindi sì La parte del farlo più volte Rimane comunque Ma c'è poi da lavorare Anche correttamente Sull'emozione Io per esempio Nonostante Tante volte Fossi arrivato Al bacio Parlo degli inizi Avessi fatto diversi appuntenti E arrivato anche al bacio Diverse volte Dopo tipo un anno Un anno e mezzo Forse anche Avevo ancora la paura Di provare il bacio Perché Nonostante l'avessi fatto Già diverse volte C'era ancora la paura Che appunto Lo spiego durante i corsi Come si fa a rimuovere Definitivamente la paura E appunto Oggi in realtà Non è una cosa che mi sono accorto Oggi È una cosa che in realtà Ho già notato mesi e mesi e mesi fa Forse anche più di un anno fa Che praticamente Ormai Provare il bacio Non mi dà più Battito cardiaco Zero Mentre prima Mi ricordo che Quella difficoltà C'è voluto Parecchio Per passarla Quindi Una cosa che ti posso dire È Fai comunque Contatto fisico Prova comunque il bacio Lo stesso Anche se hai paura Ok E la parte che Che probabilmente Ti manca A livello mentale È capire che Lo devi fare Sforzandoti Non ti viene naturale Qualsiasi comportamento nuovo Vuoi sviluppare All'inizio lo devi sforzare Finché poi dopo Non c'era naturale Ok Poi Qui c'è anche una componente emozionale Come ti ho detto Che viene spiegata Nei corsi Però Qualsiasi gesto tecnico Semplicemente Ripetendolo di più Oppure Anche una qualsiasi procedura tecnica All'inizio va sforzata Presta imparata Non ti viene naturale Ok Quindi Questo passaggio Molte volte manca A un sacco di persone Il fatto che lo devi sforzare Non ti viene naturale All'inizio Se vuoi andare in palestra All'inizio Alle 6 del mattino Non ti viene naturale Andare in palestra Alle 6 del mattino Ti viene naturale Starti a letto Per smettere di fumare Non ti viene naturale Smettere di fumare All'inizio All'inizio devi sforzarti Un commento per farmi sapere Se funziona Se funziona O se è buggato E devo aprirlo dal desktop Allora Altro anonimo Chiede Se durante un approccio Il fidanzato Di una ragazza Che magari ci sta Ci compare da dietro le spalle Perché magari Prima si è allontanato Per un po' Cosa possiamo fare? Di solito niente Di solito niente Poi soprattutto Se di giorno Se fosse in discoteca Magari si Però di giorno Cosa vuoi fare? Se ti compare Il fidanzato Michele Michele ha scritto un commento Funziono ancora i commenti Grande Grazie Tutte le volte C'è sempre un problema Con Facebook I commenti E la connessione Non sto a dire altro Quindi di solito niente Soprattutto se è un approccio di giorno Non è che puoi fare molto Quello che puoi fare magari Se vuoi proprio giocartela E presentarti a lui E capire Se Diciamo Se è un beta Se è uno sfigato Oppure se è uno che Diciamo C'è con la testa Diciamo lei Diciamo Non so come dire È alfa Ok Capisci se è alfa O beta Come uomo Se vedi che è uno sfigato Magari puoi continuare a parlare con lei Se vedi che è uno che È meglio che te ne vai Vattene via Quindi Di solito non puoi fare niente Però se vuoi proprio giocartela Capisci se è uno sfigato Oppure se è uno che Se è uno alfa Se capisci che è uno sfigato Magari Continua a parlare con lei Ti presenti anche a lui Ti presenti Al fidanzato Scami 4 parole con lui Gli dici che sei un suo Un suo vecchio amico di lei Andavate a scuola insieme Però Non so Vi siete persi di vista Non hai più visto i contatti Eccetera Non Così Non lo so Ti inventi qualcosa Come ho detto Di solito non puoi fare nè molto Ok Saluto De un approccio di giorno Se fossi in discoteca Magari sì Però Puoi fare questo qui Quindi magari ti presenti anche lui Se appunto capisci che lui è uno sfigato Ok Ti presenti a lui Non so E poi magari prendi il contatto di lei Un contatto social Non il numero Non prendere il numero È totalmente fidanzato Poi Dipende da quanto lui è beta Se è beta E Se no Non lo so Magari prendi anche il contatto di lui Non lo so Per appunto passare più sotto i radar Prendi il contatto di lei E anche il contatto di lui Un contatto social Instagram o Facebook Ma di solito non puoi fare molto Se compare il fidanzato così all'improvviso Facebook è contro il day game Eh Mi sapremo di sì Anonimo chiede Ciao Luca In media i tuoi studenti Dopo quanti approcci riescono a sciogliersi Con le ragazze E risultare più naturali Fino a che limite di età Accetti come studenti Non credo over 60 Allora sì Ovviamente over 60 Assolutamente no Già in realtà Io come età massima Quando ho iniziato Avevo stabilito con me stesso 45 anni Già Già fra i 40 e i 45 anni Ne parliamo Vediamo Ma di sicuro Oltre i 45 anni No Assolutamente Quindi Già dai 45 Forse Se ne si Ne si può parlare Forse Già però io parto già Oltre i 45 no Cioè una persona che arriva A 45 anni 46 anni Sì Se è motivata Si può ancora fare Quindi non sto dicendo Che non si può cambiare Non si può fare Però Non Non c'ho voglia io Di mettermi a lavorare Sulla testa Di una persona Che è arrivata Magari a 50 anni Non ci sa fare con le ragazze Quindi Non che non si possa fare Quindi Se magari stai guardando questo video E sei un 45 anni O un 50 anni Si può fare Puoi migliorarti Ok Ho visto In Duomo Gente approcciare Che magari aveva anche 60 anni 70 anni C'era un vecchietto Una volta che girava Che approcciava le ragazze E ci sapeva anche fare Quindi Però Non sarò io A insegnartelo Dal vivo Poi Se magari Chi ha 45 anni 50 anni Può guardare i miei video Ma non sarò io A insegnartelo Nei corsi al vivo Quindi In media Quando i tuoi studenti Dopo quanti approcci Vescono a sciogliersi Con le ragazze Risultati più naturali Dipende dal punto di partenza Dipende dal punto di partenza Dipende se uno Ha già magari Un po' di esperienza Con le ragazze Dipende Se uno magari Cioè se uno Non ha mai avuto esperienza Con le ragazze Quindi dipende Dal punto di partenza In una giornata Chi parte Molto bloccato Non so 10-15 approcci Mi ricordo Uno degli ultimi corsi Che ci sono stati Era un ragazzo Molto molto bloccato Il primo approccio È stato assurdo Però al sedicesimo approccio Ho fatto i stand date E bacio Dopo tipo 40 minuti 50 minuti Che era con la ragazza Quindi ci sono voluti Una decina di approcci 15 approcci Per iniziare A ingranare di più Poi dipende Anche se magari Fai un stand date In questi approcci Fare un'interazione lunga Con una ragazza Sicuramente ti aiuta A sbloccarti molto Piuttosto a fare Continuamente interazioni Da 2 minuti 3 minuti 5 minuti 10 minuti Fare un'interazione Che magari dura 50 minuti Poi dopo Ti rende le cose Molto più facili Per gli approcci seguenti Gabriele chiede Qua a Palermo Ti alzano le mani Se approcci una ragazza E viene il ragazzo Sì Non lo so Mai fatto game a Palermo E non farò mai game A Palermo Anonimo chiede Ma con le donne A volte È bene sconnettere Il cervello logico E attivare quello emotivo Sì Bravo Gabriele ha capito Di chi sto parlando Anonimo chiede Ma con le donne A volte È bene sconnettere Il cervello logico E attivare quello emotivo Allora Aspetta un attimo Prego che risponda La domanda Gabriele ma Chiedi a Ivan Ivan Forse non so Se dovrei dire il tuo nome Ivan Dicci com'è finita Con quella ragazza lì Del corso Se guardi questa live Indifferita Dicci com'è finita Non so Mandami Mandami Dilo Gabriele Gabriele poi lo dice a me Non lo so Gabriele Scrivi a Ivan E chiedi Se ha rivisto la tipa Che non si è saputo Più niente poi Quindi Ivan Se guardi indifferita Fammelo sapere In qualche modo Allora Torniamo alla domanda Anonimo chiede Ma con le donne A volte è bene sconnettere Il cervello logico E attivare quell'emotivo Allora sì Assolutamente sì Il cervello logico È da usare principalmente Quando c'è da risolvere Un ostacolo O un'obiezione Ma un ostacolo oggettivo Quindi non so Per esempio Mi ricordo una volta Ero a casa di una ragazza Era un appartamento di modelle Ero a casa di una modella Che appunto le modelle Qua a Milano Vivono in appartamenti Magari Vivono in tante Ora gli scrivo Bravo Scrivi Magari vivono in appartamenti In 10 15 modelle Magari sono in 2-3 Prestanza Ed ero a casa di lei Tipo era l'una di notte Le due di notte Ed eravamo nella sala E però Ero già arrivato Tipo al bacio In 20 minuti Cioè in realtà Era il primo appuntamento Ho fatto l'appuntamento Direttamente a casa di lei Non sto qua a spiegare Il come Il perché Eccetera E dopo 20 minuti Sono arrivato al bacio Però non c'è stato modo Di arrivare Di scoparla lì Non c'è stato modo Quindi in quel caso Non è risolvere Le resistenze Le obiezioni Eccetera Lì bisogna accendere La parte logica E risolvere L'ostacolo In maniera oggettiva Perché delle volte Sono delle obiezioni Per chi ha l'audio corso Lo sa benissimo Poi uscirà il videocorso A marzo Io dico marzo Però non so Se effettivamente Sarà marzo Quindi un conto Se sono obiezioni Un conto Se è un impedimento Oggettivo Se è un impedimento Oggettivo Attivare la parte logica E risolvere In maniera oggettiva L'impedimento Quindi Semplicemente L'ho portata A casa mia Perché lì Non c'era modo Perché? Perché c'erano Tutte le altre ragazze Nell'appartamento Che comunque erano a dormire Però magari qualcuno Si alzava E ci vedeva Oppure magari Altre erano invece fuori A far serata E magari rientravano E ci vedevano Quindi in quel caso Non era risolvere Le obiezioni Era risolvere in maniera oggettiva L'impedimento Ok? Quindi Per questi casi qua Sì È utile Accendere la parte logica Però di solito Se sei troppo logico Con le ragazze Riscontrerai molte frustrazioni Perché le ragazze Non sono logiche Ti dice che c'è E poi non c'è È interessata Però ti deve fare obiezioni E se magari Una ragazza Che è fidanzata Non ti bacia Però Può far sesso con te Tutte queste cose qua Nella logica da uomo Non hanno un cazzo di senso Ma nella logica femminile Perché appunto Non c'è una logica femminile Sono Molto più emotive Ed emozionali Agiscono in base A come si sentono Questo è un altro discorso Oppure magari È super presa sul momento Però poi il giorno dopo Non ti risponde Sono tutte cose che Dal punto di vista dell'uomo Se dovessimo guardarle In maniera logica Dici Non ha senso E invece sì Ha senso Nella logica femminile E qual è la logica femminile? La logica femminile È che non c'è nessuna logica C'è emozionalità Quindi Un vario discorso Però penso si sia Si è capito più o meno Domanda di Hermes Hermes è l'unico Che si è firmato Con il suo nome Hermes chiede Ciao Luca Cosa consiglieresti Di fare quando In un'interazione Nonostante tu Stia andando Abbastanza bene Ma lei rimane Comunque chiusa E resti a darti il numero Per poi dirti Che deve tornare Dalle amiche Non ho capito Aspetta Cosa consiglieresti Di fare Quando In un'interazione Nonostante tu Sia andato Bastante bene Ma lei rimane Comunque chiusa E resti a darti il numero Per poi dirti Che deve tornare Dalle amiche Mi è successo Con una ragazza Ucraina Molto bella La scorsa volta L'ho aperta Di diretto Dicendole che Mi sembrava carina Con il cappello Che indossava Penso che O non le piacessi O Io O l'approccio fatto Tanta che Via messaggio Non mi ha risposto Oppure Beccato il suo profilo Su Tinder Alcuni giorni dopo Allora Magari Avevi tu La percezione Che stessi andando bene Quindi tu dici Che andava bene L'interazione Magari Avevi tu La percezione Che stessi andando bene Che è il discorso Che ho appena fatto Magari Stava andando Che veramente bene Però poi Non ti risponde Per vari motivi Quindi Magari Una cosa È che avevi solo tu La percezione Che stessi andando bene Però in realtà Non stava andando bene E più la ragazza è bella Più è così Ok Probabilmente Non era sufficientemente Interessata Tutto qua Con le ragazze Molto molto belle Secondo me Non lo so Quindi se questa qua Era una ragazza Molto molto bella È probabile appunto Che Magari sul momento Sembrava che Stesse andando bene Però poi fondamentalmente Devi competere Anche con tutti gli altri uomini Che Le girano attorno Ok Quindi magari sul momento È anche interessata Però poi magari Non è sufficiente Interessata Oppure Avevi semplicemente Tu la percezione Che stesse andando bene Però in realtà Non stava andando bene Ok Poi Se Vabbè Sono discorsi lunghi Il fatto che sia su Tinder Non significa Che Diciamo Sia comunque Alla ricerca Poi magari sì Io mi ricordo Di una ragazza Di una modella russa Molto molto bella Con la quale era uscito Che era anche su Tinder Che però Non so fare cosa Però Perché comunque Poi quando ci sono uscito Mi ha detto Che non usciva Con i ragazzi Che incontrava da Tinder Non so perché Fosse su Tinder Magari era su Tinder Per promuovere il suo profilo Instagram Non lo so Non ne ho idea Oppure magari Mi ricordo di una Che era Con la quale sono uscito Che su Tinder Diciamo Beccava la gente Che la voleva pagare Tipo non so Che magari La gente ricca Che le diceva Andiamo a fare il giro in Ferrari E ti pago il viaggio A Dubai Su Tinder Mi diceva che beccava Questi uomini qua E poi comunque Usciva con gente normale Che l'approcciava dal vivo E su Tinder Beccava Solo quelli A cui gli voleva Spillare i soldi Ok Poi non lo so Non conosco La tua situazione specifica Quindi non so come è andata Non so niente Quindi Questo è ciò che posso dirti Allora Confucio551 Chiede Chiaramente è una persona Inanonimato Per chi Per chi fosse la prima volta E guarda queste dirette Sono nomi Che di persone Che mi fanno le domande Inanonimato Quindi Confucio551 Chiede Ciao Luca Ma le ragazze cinesi Ah io forse so chi è questo Secondo me è Dario Dario M Ciao Luca Ma con le ragazze cinesi Con cui esci Sono quelle di fascia alta E quindi ricche Mi hanno detto Che in generale Sono attratte dagli uomini italiani Perché romantici Ma sarà vero? Non ne ho idea Non ne ho idea Di sta cosa qua Che escono con gli uomini italiani Perché sono romantici Non lo so Io sono uscito con due Ragazze cinesi Con le quali poi Ho anche chiuso Cioè chiuso Si sono andato a letto Con due cinesi Io quando dico asiatiche Non sono cinesi So che per noi occidentali Le asiatiche Vuol dire cinesi Però ci sono un sacco di altri paesi Nell'Asia Io sono uscito con le ragazze Della Corea Di Taiwan Della Mongolia Non sapevo neanche che esistesse La Mongolia Della Non mi ricordo Non so Vari paesi Dell'Asia Di Hong Kong Di Cina Non so Sono uscito con varie ragazze Dei paesi asiatici E Quindi Non Ecco per esempio Una delle cinesi Con cui sono uscito Ti posso dire che Si era Piuttosto benestante Sono andato a casa di lei E praticamente Viva in un palazzo super moderno Qua a Milano Un palazzo super moderno E Tipo Uno dei piani altissimi Sono entrato L'appartento era tipo Di 150 metri quadrati Era tipo una vista assurda Un terrazzo Il balcone Assurdo E Poi mi diceva che viaggiava In aero In business class Quindi Questa qua Si ti posso dire che Era piuttosto benestante L'altra cinesi Con cui sono uscito No Era perché era una studentessa Poi magari Era una studentessa Magari era ricca Allo stesso Però non lo so E Ce n'era una Di Taiwan Con la quale sono uscito Che Veramente È strapiena di soldi E a quelli con cui Poi sono andato anche in vacanza E Che per niente Cioè È tipo Tutte le volte Nelle storie di Instagram È sempre in giro Negli hotel a 5 stelle Viaggia sempre Non lavora Non lo so Ma quando l'ho conosciuta Cioè Mi ha detto Che fa un certo Che lavora Fa consulente In un'azienda Che però comunque Non è una livella professionista Non Cioè Che non Non lavora sempre Per la stessa azienda Fa consulenza Diversa Comunque È sempre in giro Non capisco Quindi E fra l'altro Quando siamo andati in vacanza Insieme Ci siamo andati In posti normali Però tipo Recentemente È stato vedere Che è sempre Tipo in giro Negli hotel a 5 stelle E non fa il lavoro Che pensate Voi Ok Me ne sono accertato Di questo Perché ad alcuni A cui ho esposto Questa questione Poi Mi hanno detto Ma farà escort No Non farà escort Me ne sono accertato Allora Anonimo chiede Ma durante il day game Dobbiamo anche curare Il nostro look Un look troppo casual O semplice Può influire Può influire Sulla seduzione Specie in città Come Milano Dove vige l'apparenza Dipende dal target Di ragazza Se hai un target Di ragazza Molto alto Il look Impatta di più Se vuoi andare Da una strafiga Vestita super elegante E ci vai vestito Da barbone Con la tuta Parti molto male Poi Magari sei bravissimo A recuperare l'interazione Però Anche per gli standard sociali Lei non si farà vedere In tua presenza Non si ferma a parlare con te Perché C'è proprio un dislivello Di apparenza Ok Poi Io adesso mi vesto Prende sempre con la camicia Perché mi piace E infatti punto Anche un target Di ragazza Più alto Però Mi vesto sempre in camicia Forse da un paio d'anni E prima comunque Andavo in giro Vestito normale Con la maglietta Con la felpa E comunque Ottenevo risultati Sono uscito anche con modelle Quindi Si possono comunque Ottenere risultati lo stesso Quindi non è una cosa che impatta Non è una delle cose più importanti È importante In misura di qual è il tuo target Di ragazza Più la ragazza è figa Più di solito Non sempre Però di solito È importante anche Curarsi di più Vestirsi anche un po' meglio Ok Poi Anche con le ragazze normali Comunque Con condizioni Diciamo di base Andare lì con i vestiti strappati O che puzzi Usiamo il buon senso Ok Poi Anonimo chiede Una buona qualità della vita Può alzare il tono dell'umore E facilitarci nella seduzione? Assolutamente sì Come l'ho già spiegato prima Se non sbaglio L'ho già spiegato prima Se arrivi tirato a fine mese Chiaramente la vivi male Perché anche solo L'offrirle un caffè La vivi male Se sei E me lo ricordo Perché appunto Io ero tirato così Un po' di anni fa Infatti Tipo nel 2016 Nel 2017 Non ho speso niente Per gli appuntamenti Facevo gli appuntamenti gratis Andavo al parco Le portavo in posti Dove mi sedevo lì E potevo anche non ordinare niente Quindi Me lo ricordo La vivi molto male Cioè proprio Influisce sulla tua serenità Internamente E poi il tuo stato emotivo Influisce su come ti comporti Con la ragazza Quindi sì Sicuramente Un buon tenore di vita Avere una qualità di vita Più alta Ti può aiutare Proprio su come ti senti internamente Poi il come ti senti internamente Impatta Su come interagisci Con la ragazza Poi Qualità di vita Può anche non essere Economicamente Se comunque Hai una buona qualità di vita A 360 gradi Mangi bene Ti alleni Viaggi Sei sempre in posti diversi Fai sempre cose nuove Non lo so Lavori sulla tua autostima Hai Hai degli amici Con i quali ti diverti Non lo so Comunque A 360 gradi Hai una qualità di vita Sulle varie aree Fai un lavoro che ti piace Quindi Una qualità di vita A 360 gradi Chiaramente impatta Sul come ti senti internamente Poi il come ti senti internamente Impatta Sul come interagisci Con la ragazza Quindi sì Gabriele chiede Se magari ti vesti Con abiti firmati Eccetera E vai da ragazze normali Ti percepiscono Con un valore più alto Dall'inizio Non lo so Perché io Non mi vesto con Non mi vesto con Abiti firmati C'è Yuri Che oggi non si è collegato Credo C'è Yuri Che è sempre in giro Vestito stravagante E Non lo so Non ti so dire Perché Io non mi vesto Con abiti firmati Che poi Alla fine Non so se lo sapete Questo non c'entra un cazzo Con il game Però È interessante Come statistica Circa l'80% Delle persone Che compra Abiti firmati Cose molto costose A livello di Di abbigliamento Oppure di borse Eccetera L'80% delle persone Che li comprano Non se li possono permettere In realtà Quindi Sono tutte persone Che hanno speso Magari Tre quarti dello stipendio Uno stipendio intero Per comprarsi La cintura di Non so quanto costano Perché io Non ce li ho Si sono spesi tutto Lo stipendio Per comprarsi Le scarpe Di tale brand La cintura La borsa Quello che è Quindi per esempio Non vado avanti Su questa cosa qua Solo il 20% De persone Che comprano Questi I brand costosi In realtà Possono Permetterseli Cosa significa Che possono Permetterseli Significa che Il costo Del Quello che compra In realtà È proporzionato Con ciò che guadagnano L'80% De persone Che li compra In realtà Hanno speso Tre quarti Dello stipendio Uno stipendio intero Due stipendi Magari hanno dovuto Mettersi I soldi via Per tanto tempo Quindi in realtà Un sacco di gente Hai sempre Vestiti firmati La borsa Si vede un sacco di ragazze Sempre con la borsa Di Louis Vuitton Però in realtà Ormai Sono cose che hanno Praticamente tutti Quindi Fosse una cosa Che non c'ha nessuno Magari sì Vieni percepito Più di alto valore Però Fondamentalmente Ci hanno tutti Sì Lo so che esistono Le imitazioni Però Un sacco di gente Come ti ho detto In realtà Spende tre quarti Dello stipendio Uno stipendio intero Per comprarsi I vari brand Costosi Siamo a un'ora E zero quattro Andiamo avanti Tanto Oggi c'ho voglia Di chiacchierare Però Allora Io sto scorrendo Il cursore Qua il mouse Siamo a metà Delle domande Quindi Non le facciamo tutte Cioè va bene Che c'ho voglia Di parlare Però Non le facciamo tutte Cioè sono Sono troppe Sono troppe Le facciamo Una prossima volta Le altre Adesso andiamo avanti Ancora un po' Vediamo Quando è che mi stufo Allora Anonimo chiede Come gestire L'autoironia Con una ragazza Senza scadere Nel ridicolo Allora Come gestire L'autoironia Senza scadere Senza cadere Nel ridicolo Non mi focalizzare Troppo su quello È una cosa Della quale Non ci ho mai pensato Quindi Se non ci ho mai pensato Vuol dire che Puoi ottenere risultati Anche senza Focalizzarti su quello È un po' come Il metodo misteri Che è un sacco di persone Che il metodo misteri È il libro dei libri Sulla seduzione Che io non l'ho letto E tutte le volte Diciamo Chi ha esperienza di game Da un po' di anni Mi dice Ma come è possibile Che non hai letto Il metodo misteri Non l'ho letto Evidentemente Non è così importante Da leggere Quindi anche questo qua Una cosa Non ti consiglio Di focalizzarti Troppo su Sul come gestire L'autoironia Senza cadere Nel ridicolo Adesso il discorso Io di prima Non fare il buffone Impari ad usarlo Sbagliando Imparando appunto Sbagliando E finendo troppo Nella Diciamo nella friendzone Nel fare troppo il buffone Poi appunto Non ottieni il risultato Allora capisci Che forse Hai esagerato troppo Allora poi Dopo la prossima volta Calibri un po' di più E capisci sempre Dov'è il range Giusto Per non Non sfociare Nel ridicolo E una cosa Ecco Una cosa Che ho visto fare Una persona Che esagera troppo Con questa cosa Dell'autoironia Del fare il buffone E che lui proprio Si insulta Si autoinsulta Quindi Non Autoinsultarti Quando fai Magari autoironia Quando magari Scherzi Riguardo a te stesso Non autoinsultarti Quindi questo È sicuramente Un buon criterio Che puoi utilizzare Poi Anonimo Chiede Buonasera Luca Abito in una piccola città 120.000 abitanti Quindi non c'è Un gran flusso Di ragazze E non riesco A fare tanti approcci Quindi Meglio avere logistica A favore Facendo pochi approcci E stare nella mia città O spostarsi Nella città più grande A 50 km di distanza Dalla mia E fare tanti approcci Ma con logistica A sfavore Assolutamente Spostati Non diventerai Mai bravo Nel paesino Quindi Anche se hai logistica A favore Nel paesino Troppo Troppo Poco flusso Per praticare E diventare bravo Quindi spostati Di sicuro Nella città più grande Poi lì Te la vedi te Quando Come E quanto fare Quanto tempo a spendere Nella città più grande Magari se vai lì per sopra Il weekend O se ci vai tutti i giorni Quindi guardate Lo vedete Puoi fare in contemporanea Puoi fare in contemporanea Che pratichi Lì nella grande città Magari tutto il weekend E poi quando sei nel paesino Magari Nel paesino Poi 120.000 abitanti Non penso sia un paesino Sarà una città Però comunque piccola Non so quale città possa essere E In contemporanea Magari fai anche qualche approccio Nella quotidianità Anche dove vivi te Però Il grosso del lavoro Lo fai Quando sei nella città Nella città grossa E poi Una cosa A livello di risultati A livello di logistiche Magari Chiuderai Ragazze Al secondo Terzo appuntamento Magari non le chiuderai Al primo appuntamento Perché magari Le approcci nella città grande A 50 km di distanza Quindi il primo appuntamento Probabilmente lo andrai a fare Lì nella città A 50 km Magari lì Arrivi al bacio È molto improbabile Che poi Al primo appuntamento Te la porti Fino a casa tua Poi magari Ti organizzi con le logistiche In altri modi Con la macchina Oppure Ti prenoti un appartamento Oppure In hotel Quindi Lì entriamo In altri argomenti Però magari Al primo appuntamento Arrivi al bacio Inizi a seminare Per il secondo appuntamento Inizi a seminare Per Tutto spiegato nell'audiocorso E poi nel videocorso Che arriverà Penso a marzo Signori Mettetevi via i soldi Costerà tanto Costerà tanti soldi Il videocorso ci sarà Fra un po' di mesi E in realtà Rispetto a quello che c'è dentro Costerà poco Però comunque Costerà tanto Quindi mettetevi via I soldi Quindi Magari le chiuderei Al secondo o terzo appuntamento Quindi magari Fai il primo appuntamento Nella città grande Poi il secondo appuntamento Magari lo fai Nella tua città O magari il terzo appuntamento Oppure magari Il secondo appuntamento Lo fai nella città grande Però Avevi già seminato Questo è Un concetto Che spiego Nei corsi E avevi già seminato E poi quindi Riuscite ad andare A casa tua A 50 km di distanza È possibile Si può fare Però Va fatto un certo lavoro Questo è un live gratuito Quindi Non è che posso entrare Nello super specifico Allora Vediamo quanti ce ne sono ancora Secondo me Magari riusciamo a farle Tutte Una Due Due Solo due domande Oh Le facciamo tutte Assurdo Non so perché il cursore Mi diceva che eravamo a metà Allora Quindi se Se qualcuno è collegato Vuole scrivere qualcos'altro Qualche altra domanda Magari rispondiamo Oggi facciamo Non siamo neanche tanto fuori tempo Quindi se qualcuno volesse scrivere Anche altre domande Possiamo rispondere Anche adesso Allora Anonimo chiede Ciao Luca Ti sono mai capitati Studenti delusi Dalle altre scuole di seduzione? E se si Come mai Con le altre scuole Mi viene da ridere E se si Come mai Con le altre Non hanno ottenuto risultati Riprendiamo la serietà Allora Sì Io appunto Siccome li ho contati Sono praticamente Un terzo Delle persone che hanno fatto I corsi con me Arrivavano già Da altre scuole di seduzione Hanno già fatto corsi Con altre scuole di seduzione E appunto Sono stati Delusi Per vari motivi Non so se posso dirlo Non entro troppo nello specifico Per magari corsi Troppo numerosi In cui non si viene Seguiti Oppure Per esempio Uno che era stato portato In discoteca E Praticamente Era una discoteca Di ragazzini 18 anni 20 anni E lui aveva 36 anni Mi ha detto Che aveva trovato Un sacco anche di minorenni E Vari discorsi Era un corso Di una settimana E mi ha detto Che in una settimana Ha fatto una decina di approcci Cioè In una settimana Fare una decina di approcci In un corso di sette giorni Ma che cazzo Vai a fare lì Cioè Dieci approcci Li facciamo in una giornata In i corsi Anche qua Di gruppo Quando c'è stato Gabriele Con anche altro studente Di cui non posso dire il nome Anche se l'ho detto prima Il nome E Hanno finito i due giorni Erano loro due Due studenti E Hanno fatto Quanti erano? 33 approcci 36 approcci A testa In due giorni Con anche Instant date L'altro è arrivato Anche al bacio Quindi Dieci approcci In una settimana Che cazzo hai fatto In una settimana? Perché Erano otto studenti Vari discorsi Quindi Uno per il discorso I corsi troppo numerosi E uno La seconda cosa Fondamentalmente Anche per la mancanza Di risultati Che come ho detto Come ho detto più volte Le altre scuole di seduzione In Italia Sono incompetenti Non sanno far ottenere risultati E non insegnano neanche Perché poi Io ho le registrazioni Delle chiamate Skype Che facciamo Prima del corso In cui conosco un attimo Lo studente E quando arrivano Da altre scuole di seduzione Gli chiedo Ma durante il corso Ti hanno insegnato Come si porta una ragazza a casa? Tutti Tutti Non ce n'è uno Che mi abbia detto di sì Tutti mi hanno detto di no Perché Non viene insegnato Come cosa Quindi Poi anche persone Che magari Ottengono risultati Però Il numero Non è un risultato Persone che arrivano Magari a fare appuntamenti Persone che Fanno instant date Persone che arrivano Anche al bacio Però non Non sanno poi Come portare La cosa Alla conclusione Quindi portare la ragazza a casa E andarci retto Perché non Gli viene insegnato Quindi siccome poi Tutti insegnano questa cosa A metà Tutti esso Eccetto uno A quanto pare Uno a parte me Un altro A quanto pare E Però questa persona Come ho detto prima Non fa corsi al vivo Attualmente Quindi Vabbè Magari questo Forse dovrei smettere Di dire queste cose qua Comunque Per Sì Fondamentalmente Per mancanza di risultati Negli altri corsi Quindi Questo principalmente E Ah ecco Te ne posso dire anche un altro Che praticamente A questo qua Gli hanno fatto approcciare Solo Cesse Che lui è anche Molto bello esteticamente Poi Magari Guarderanno tutti Questo live Questi studenti qua Che hanno fatto I corsi con me O che li faranno E A uno Gli hanno fatto approcciare Solo Cesse Solo Cesse E Lui è stato scontento Di questa cosa qua Gli hanno fatto approcciare Solo Cesse Per Non so Quanto è durato il corso Mi sembra tipo Una settimana Una settimana Poi non mi ricordo Gli hanno fatto approcciare Solo Cesse E lui è anche Molto bello esteticamente Quindi Se hai voglia di parlare Scendi E vai a fare il game Ora Non devo scendere Sono già a piano terra Sono già a piano terra Che cazzo vado a fare in Duomo Non c'è nessuno in Duomo adesso Se vuoi vedere Chi c'è in Duomo Vai su Google Scrivi Duomo Live Clicca il primo risultato C'è una webcam Sopra il palazzo Di fronte al Duomo Che ti fa vedere la piazza Così vedi Quanta gente c'è in piazza Direi che Non c'è nessuno Comunque pochissime persone Se fosse magari Agosto O estate Trovi gente Trovi tante ragazze in giro Anche da quest'ora Sono le 23.14 In questo momento Però Adesso che Quando ci saranno tipo Quattro gradi fuori Direi che Non si fa Ultima domanda Abbiamo Anonimo chiede Dopo un approccio Andato male Andato male Dobbiamo analizzare La situazione appena conclusa Ma come facciamo a sapere Dove abbiamo sbagliato Tu come analizzavi Le situazioni All'inizio Del tuo percorso Sì Questo è un bel problema Sì Perché fondamentalmente L'ho già spiegato altre volte L'ho spiegato appunto In vari corsi E che Tu nel momento in cui Commetti l'errore Non puoi correggerti tu Perché tu Avendo sbagliato Il tuo punto di vista È sbagliato Di conseguenza Ti serve un punto di vista Non sbagliato Per correggerti Quindi Il tuo punto di vista È sbagliato Di conseguenza Non puoi correggerti Perché Quello che pensi È sbagliato Altrimenti Avresti fatto giusto Non so se Se si è capito Come è discorso Quindi Correggerti il giorno stesso Non si può fare Perché il tuo punto di vista È infettato È sbagliato Ok Quindi Come si fa Bisogna chiedere Uno A chi ha più esperienza Tramite varie modalità Dipende Uno chiede A chi ha più esperienza Due Consultare La teoria Ora Per chi appunto Ha fatto i corsi Ha il mio audio corso Quindi che contiene Tutta la teoria Dalla A alla Z Dall'approccio Fino al sesso Come ho detto Fra un po' di mesi Arriverà il videocorso Che sarà una bibbia Enorme Come ho detto Mettetevi soldi da parte Io ve lo dico Adesso Già un po' di mesi In anticipo Quindi consultare O la teoria Ci sono i miei video gratuiti Quindi Già lì ci sono Un sacco di cose Quindi consultare La teoria Oppure Appunto Chiedere a chi ha più esperienza Quindi Io quello che facevo Agli inizi Fondamentalmente Siccome c'erano diverse persone Con le quali uscivo C'era proprio il gruppo E una volta al mese Avevamo la cena di gruppo In cui a turno Tutti dicevano Quali erano le difficoltà Che stavano avendo E gli altri Gli davano feedback Quindi Quando ero agli inizi Praticamente Chiunque era più avanti di me E quindi Chiunque poteva darmi feedback Quindi Questo è stato un po' il modo Con il quale poi sono migliorato Poi ho fatto corsi Ho seguito Video Eccetera Ho imparato Poi più vai avanti Più È difficile Più difficile imparare Perché a chi chiedi Nel momento in cui Diciamo Non so È una difficoltà Su come portare Una ragazza a casa Oppure su Come diciamo Fare l'escalation fisica In casa Che ti porta fino al sesso A chi chiedi Ok Fondamentalmente La maggior parte delle persone Non ci arriva a quel punto Quindi O Hai magari un corso Per esempio Come appunto il mio audio corso Che ha tutta la teoria Dalla A fino alla Z Lì Qualsiasi fase Sbagli Puoi andare a vedere Dove hai sbagliato E sapere la risposta Quindi non lo so Magari Approcci ragazze Però non riesci ad agganciarle Perfetto C'è il capitolo Su come agganciare la ragazza Porti tante ragazze a casa Però non riesci a chiudere Perfetto C'è il capitolo Su come portare una ragazza a casa E anche su cosa fare in casa E anche sulle resistenze dell'ultimo minuto Quindi sai che la risposta è In uno di questi tre moduli Oppure fai tanti appuntamenti Però non riesci ad arrivare il bacio C'è il capitolo Sul primo appuntamento Quindi Avere tutta la teoria Dalla Z Ti facilita Il sapere dove andare a prendere la risposta Quindi Ah ecco Però c'è un video che ho fatto Gratis Su Youtube L'ho trovato su Youtube Che se non sbaglio Si chiama Perché il 95% degli uomini Fallisce con le donne Parte 1 Perché ci sono tipo tre parti Nella parte numero 1 Appunto ho spiegato questo concetto qua Dell'analizzarsi Ok Però fondamentalmente Come ti ho detto O chiedere a chi ha più esperienza Oppure consultare la teoria Quindi Signori abbiamo fatto tutte le domande Senza neanche andare di fretta Assurdo Se qualcuno avesse altre domande Potete scriverle Ho risposto a tutti Non ce ne sono domande rimaste fuori Vado un attimo a vedere sul Se qualcuno ha inviato domande Durante la diretta Cosa che Un po' stupida Cioè Non è che stupida Però verrà poi scheduata per la volta dopo Vediamo se qualcuno ha inviato Altre domande Che non ho nella lista Perché magari le avete inviate All'ultimo secondo No Non ci sono domande che sono state inviate All'ultimo Quindi ho risposto a tutti Bene Quindi Se qualcuno ha altre domande Potete scriverle adesso Oggi abbiamo fatto il live lunghissimo Se volete possiamo fare un'altra ora Di domande e risposte Allora Invitate i vostri amici Nel gruppo Facebook Se avete amici che potrebbero essere interessati a questi argomenti Invitateli nel gruppo Facebook C'è il tasto per invitare Quindi chi avessi amici Che possono essere interessati a questi argomenti Potete invitarli al gruppo Per chi fosse interessato ai corsi Ci sono Andate sul sito www.approchiala.it Alla sezione corsi Lì ci sono tutte le informazioni sui corsi I corsi sono sold out fino a metà febbraio Quindi per chi volesse Si parla da metà febbraio in poi Ci sono due corsi di sette giorni Che sto organizzando Uno per marzo e uno per aprile Quindi chi volesse Stravolgere la propria vita sentimentale E anche sessuale Non serve al tutto Perché come ho detto Insegno anche ad arrivare a concludere Non solo L'appuntamento Il bacio eccetera Insegno anche come si arriva a concludere Quindi chi volesse stravolgere La propria vita sentimentale Ci sono i corsi di sette giorni Ce n'è uno a marzo Mi sembra E uno ad aprile E Vi trovate Trovate tutte le info sul sito www.approchiala.it Alla sezione corsi Abbiamo Un commento di Federico Non ho visto la diretta Ma ti avevo scritto Per messaggio Volevo chiederti riguardo Lo humor Quanto è importante Come imparare a usarlo Federico Se mi scrivi in privato Non gli vedo i messaggi Voi avete idea Di quante persone Mi scrivono in privato? Perché comunque Non Non li guardo Ho altre cose Da fare Se volete Se volete farmi le domande Fatele qua nella diretta Oppure Tramite il form Per farmi le domande Prima della diretta Così io ce le ho già nella lista E poi vi rispondo Se me le fate in privato Su messengers Facebook Non le vedrò mai Comunque Federico per caso Hai inviato la domanda Anche tramite il form Per fare le domande Perché c'è uno Che mi ha fatto una domanda Sullo humor Era perché Magari eri te Quindi L'avevi inviata anche tramite il form Per fare le domande La domanda Perché se sì Ti ho già risposto E ti riguarda la diretta Quindi dimmi se Dimmi se me l'hai inviata anche Tramite il form Per fare le domande In anonimato Vediamo se Ce n'era una domanda Fatta sullo humor Dimmi se Eri te che l'hai fatta In anonimato Qua io ho una domanda Che c'è scritto Come gestire l'autoironia Con una ragazza Senza cadere nel ridicolo Eri te Oppure ce n'è un'altra forse Non lo so Dai rispondiamo qui Vediamo che c'è scritto Allora Volevo chiederti Riguardo lo humor Quanto è importante E come imparare ad usarlo È importante È una delle caratteristiche Che aiutano Ma ci sono Allora Se non sei stato tu A fare la domanda Ci sono già state due domande Durante il live Legate all'argomento humor Quindi poi riguardati il live E ci sono già due domande Che parlano di questo Quindi Quanto è importante lo humor E come imparare Ad usarlo Allora Importante sì Perché comunque È una delle caratteristiche attraenti Il fatto di essere divertente È una caratteristica Che genera attrazione Il saper portare divertimento Diciamo All'interazione Come imparare ad usarlo C'è un video Che ho già fatto Uno dei primi video che ho fatto No non l'avevo inviata Tammite domande Se hai già risposto Faccio Che guardare E se non l'avevi inviata Allora vuol dire Che non ho risposto Alla tua domanda Quindi ti rispondo Qua adesso E come imparare ad usarlo C'è un video Che ho fatto Un po' di tempo fa Che è gratis Ho visto su youtube Che se non sbaglio Si chiama Come imparare a divertirsi O forse Come imparare a divertirsi Con le ragazze Non lo so Comunque vai su youtube Scrivi Come imparare a divertirsi Approcciala.it Dovrai venirti fuori il video Poi non mi ricordo esattamente Il titolo E lì se non sbaglio Do tipo 6-7 modi Per imparare a divertirsi Uno di questi Per esempio È il Guardarti delle serie tv Divertenti Comiche In modo che prendi spunto Da queste serie tv Comiche E divertenti In modo per esempio Un personaggio Ti consiglio di guardare È Neil Patrick Harris Che è Quello lì che Ha interpretato Barney Nella serie How I Met Your Mother Che lui è veramente Uno molto carismatico Molto divertente Sempre con la battuta pronta Quindi ti consiglio di Guardare lui E Quindi Però anche di guardare Serie tv Divertenti E comiche In modo E di guardare Non con il punto di vista Logico Con il punto di vista Di godertela Divertirti E ridere Ok Quindi Questi sono alcuni Suggerimenti Poi magari Arrivate a guardare Quel video lì Gratuito Che faccio su youtube Se non sbaglio Come ti ho detto Si chiama Come imparare a divertirsi E ci sono tipo 6-7 modi Un video tipo Dove ci sono 6-7 punti Su questo argomento Quindi È una caratteristica Importante Perché è una delle caratteristiche Che generano attrazione Ok Poi Ci sono in realtà Caratteristiche più importanti Però è importante anche Saper portare divertimento Nell'interazione Quindi Pare che non ci sia nient'altro Vediamo se C'è altro Quindi Tutte le informazioni Sui corsi Le trovate sul sito www.approcciola.it Dove c'è la sezione corsi Per chi avesse domande Sui corsi Potete scrivere All'assistenza clienti Dove non dormono mai Potete scrivergli anche Alle 3 di notte Alle 5 del mattino Vi rispondono Magari non subito Però Vi rispondono Quasi subito E il numero Iscrivetevi a whatsapp Il numero è 351 646 6774 Finalmente L'ho imparato a memoria Signori Io starei qua Però Non abbiamo altre domande Quindi Direi che la chiudiamo qua Quindi Ci vediamo domani Col prossimo video Tutti i giorni C'è un video Sul gruppo facebook Alle 12 Su youtube Esce alle 21 Varie cose Ecco Tanto Uscirà anche domani Alle 21 Nel gruppo facebook Per chi volesse leggere I miei report Che Per ovvi motivi Non li carico più Nel gruppo facebook Chi ha seguito La transizione di gruppo Sa il perché Non li caricherò più Nel gruppo facebook I report Verranno caricati sul sito La sezione dei report Non è pubblica Per ovvi motivi Però comunque Il link è pubblico Cioè Chi ha il link Può accedere Alla sezione report Ce ne sono già caricati Sopra 10 11 Non ne ho idea E Il link Poi domani Uscirà il link Nel gruppo facebook Se volete andarlo Già a vedere adesso Il link è www.approcciala.it Slash report Chi volesse andare a vederli Potete andare A vederli già adesso Lì c'è tutto il riassunto Di tutti I report pubblicati Finora Direi che abbiamo parlato abbastanza Io vado A cenare Giovanni Ti sei collegato alla fine Mi dispiace Troppo tardi Io vado a cenare Ci vediamo Mi sa Il gruppo Vuoi fare su whatsapp Come finita Per ora Non si fa ancora niente Per ora Non si fa niente Non ci sono altri Corsisti che Hanno aderito Effettivamente Non l'ho proposto a nessuno L'ho proposto solo a Ivan E a te Poi magari lo propongo Anche da altri Però Volevo fare un'altra roba Che può esserti utile Allo stesso modo Però Troppa roba Quindi per ora Non si fa niente Con la cosa del gruppo whatsapp Quindi Signori Ci vediamo